In Italia, Santi Lipponeri faceva questa passeggiata, chiamiamola, e diceva al centro state fuori se potete, un chiamantito per il murales fatto tanti anni fa, ma quando ha detto solo, se voglio tornare al 1951, esisteva soltanto la chiesoletta e questa la chiesa viene fatta a 12, il partito è nel 54, adesso viene fatta al 52, la piazza non era così, la chiesa viene fatta al 51, vedete il futuro? Vedete il futuro che passa, vedete? No, perché tu siamo, è una polana schierina così, si è saltato al fazzurro, allora dove sta il Presidente? Perché poi vedi, tu fai le cose, qualche altro, non è loro che non ho mai nominato, adesso ti faccio vedere cosa sono, ma la faccio vedere, non ci sono bene, ma allora, adesso mi faccio vedere cosa è uguale, ma chi è il nostro esempio? Max, e Max, quando vai in giro ai castelli, guarda, un lato e un po' chiesa, che stanno Abba! Come? è uguale Grazie a tutti.